Salve a tutti ragazzi dal vostro LeonTrip e ben ritornati ancora una volta su Bastard Damn Light. Allora, sono successi un po' di casini, come sempre, come è la nostra routine, e cioè quando ho riavviato il gioco per fare la registrazione del secondo episodio, ho praticamente cliccato su tutorial e lui mi ha cancellato la partita precedente, perché c'ha un solo slot di salvataggio questo gioco e, purtroppo, è una cosa che non ricordavo. Quindi, siamo ripartiti di nuovo, siamo arrivati al settore 2, siamo messi peggio con la nostra navicella, come potete vedere perché sono finito in un campo di meteoriti, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo deleggetto un po' la nave, non abbiamo trovato Kyle, no, scusate, sì, non abbiamo trovato Kyle e non abbiamo trovato il sistema per i droni, perché sostanzialmente non ho trovato manco un negozio. Va bene, vabbè, proviamo ad andare avanti intanto nella nostra partita, siamo dentro una nebula, nella nostra nebula, andiamo dentro un'altra nebula. Allora, il gioco nel medio del plasma star, bla 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 bla, l'umine del share, bla 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 bla. Manual search for survival and equipment. Oh, rischio di wait for the gioco. No, 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 proviamo a cercare, ragazzi, chi se ne fotte? No! Kenny is gone. Hanno ammazzato Kenny! Oh mio Dio, ha ammazzato Kenny! Brutto, bastardo! No, vabbè, hanno ammazzato Kenny, ragazzi, non si fa... Porca caccia la miseria, abbiamo perso Kenny, molto bene. E quindi la nostra partita sta veramente andando a sminchiate, va bene. Perfetto. Perché non possiamo jumpare? Perché non abbiamo potenza di motori, va bene. Ehm, vabbè, abbiamo un po' di stress. Vabbè. Go to surface to investigate... Va bene. No, non c'è nessun cazzo. Io non sono anche stato lì a leggere, ragazzi, in momento, perché... Vediamo se riusciamo a recuperarla. Abbiamo solo sei missili. Non fare l'eroetta, che pirata. Ah, ci chiedono praticamente una offerta. No. O ce la danno sta roba qua? No, no, ce la danno. In cambio di... Ah, ci dicono di fare una missione. Accetta questo e facciamo una missione. Ehm... Non ci servono un cazzo noi i droni. Quanto oggi Scraps non avverrà pochi. Io faccio l'eroe e attacco i pirati. Chi se ne frega. Allora hanno due laser. Mmm. Ok. No. Cavolo, mi hanno attaccato le fottute. Stan, vai tu a riparare le armi. Cavolo. C'è la miseria. Gli scudi. Aiuto. Mi spazzano il culo, ragazzi. Ok, 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 ok. Fermi tutti. Cazzo. Mmm. Allora, ci danno due droni. E l'augment. FTL jammer. Vabbè. Accettiamo. L'FTL jammer. Andiamo a vedere che cos'è. Equipment. Che cos'è jammer? Ah, ok. Le navi nemiche. Doubling the time. Ok, ci mettono due volte il doppio del tempo per scappare. È una cosa inutile. Ma veramente inutile. Ops. Mettiamo l'ossigeno, per favore, che se non crepiamo. No, 36%. Mettiamo questi. Tu vai ad aggiustare immediatamente i motori. Vai. Non so, ragazzi. Devo aspettare che mi aggiusti i motori, perché se no non riusciamo a fare niente. Ok. Ship. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Abbiamo il beam. Quindi proviamo a mettere il beam. Che non posso metterlo? Ah no, perché è un drone. Mamma mia. E non abbiamo i droni. Vabbè. Jumpiamo. Jumpiamo, jumpiamo, jumpiamo. Saltiamo qua. Qua, 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 qua. Va bene. Ci sono rimasti in due. Aiuta. Aiutali, aiutali. Ma sì. Dai potenza alle armi. Questi sono i droni. Uuuuh. Diamo potenza a sto cacchio. A questi ci hanno attaccato il sistema di... Di coso sulle armi. Bene. Vai con gli Artemis, please. Vai, non trovi. Silaccio. Basta. Vadi, vadi. Ok, perfetto. Press laser. Mamma mia. Stiamo prendendo le bastonate. Stan. Vai ai motori. Perché non riesco a fargli fuori sto coso? Cosa sono questi qua? I droni? Questo è il dispositivo quello che avevano loro. Ma non riesco a capire perché sia ancora attivo. Mamma mia, si sparano. Che cazzo è? Quanto tempo c'hanno di ricarica sti cosi? Tirami giuste armi perché stanno sparando un po' troppo. Grazie. Madonna. Ehm... Houston! Alla faccia del problema. Vai, vai. Vai che la stiamo recuperando, raga. Ok. Vabbè. Abbiamo subito un po' di fottiglioni di danni. E questa non è una gran cosa. Tutti qua? Allora, prima cosa. Dobbiamo cercare di riparare sti cosi. Vai. Ripara la falla. Ok. Vai in infermeria. Ma la nave è come un groviera. Quindi. Ripara la falla. Veloce. Ripara la falla. In infermeria. Prima di morire, grazie. Vai. Ripara la falla. Vai. Vai. Ok. Ripara i scudi. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Tutti in infermeria. Curarsi, curarsi, please. E poi gli diciamo di ritornare alla loro postione. Vai. Ritorno alla loro postazione. Intanto noi facciamo un altro salto. Speriamo ci vada bene. Oh, non ho ancora trovato uno store. Ma zero proprio. Qua. Ah, ok. Sì, una nave pirata a orbita intorno al pianeta. Ci chiedono. Hire the mercenary. Delay the river. Ah, ok. Cioè, praticamente assolda un mercenario per far ritorno indietro la flotta di belle. Erdmelt to scout to sector. Fight the ship. Fight the ship! Tanto, peggio di così. Ora abbiamo droni. Attiviamo i nostri Artemis. I nostri Artemis li buttiamo lì. Tanto, una botta sicuramente ce li prendiamo da sto laserino. No, scusate, da sto beam. No, abbiamo due scudi. Niente, quindi. Se non hanno molta evasione... Hanno molta evasione. Perfetto. Allora, visto che tanto loro non ci possono fare un tubo, io gli sparerei... No, 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 non qui. Al motore. Perché di sì. Ok. Adesso dovremmo avere più probabilità di un successo di prendere lo scudo, no? Vai. Con i motori danneggiati, tipo. Vai. Avanti. Insistiamo, insistiamo. Ok. Vadi, vadi. Molto bene. Vabbè, sostanzialmente questi sono spacciati. Allora, riparano i sistemi molto in fretta. Attenzione. Noi abbiamo il nostro FTL carico, potremmo fuggire, ma noi non fuggiremo, visto che siamo in vantaggio. Ok. Ok. C'è lasciato un po' di roba. Qui c'è abbiamo un distress. Ok. Altri cinque danni, benissimo, perfetto. Così magari ricominciamo la nostra partita, ragazzi, insieme con questa nave. Perché sta andando veramente male, ultimamente, quindi. Otto di benza. Per due droni? Certo, vi accetto. Ancora niente negozi. Bene. Proviamo a spaccare la roccia, perfetto. Se è fuori per 12 scrap. Sì, prendiamovi. Ah, eccolo qua lo store. Eh, meno male. Ok, quindi siamo ancora vivi? Perché è fix all adesso. Perfetto. Drone contro, ragazzi, ce lo prendiamo. Prendiamoci il drone da combattimento. Vediamo la pagina 2 prima. No. Prendiamo proprio il drone da combattimento. Chi se ne frega. Antipersonal, fire. Ci prendiamo qualche missile. Abbiamo speso tutto, praticamente. Molto bene. Ok. Ah. Ah, questa era buona perché ci dava 5 carburanti in cambio di 5 scrap. Però non abbiamo neanche 5 scrap. Vabbè. Vabbè, tanto carburanti ne abbiamo a infinita dose. Quindi io direi che possiamo anche fare così. Sì, mando un membro del nostro equipaggio da voi perché voi siete fighi. Anche no, grazie. Vediamo di riuscire a togliere questi sistemi. Attenzione, togliamo l'infermeria. Mottori per adesso lì lascerei. Brust laser si caricano per primi. Sì, loro hanno uno scudo. Molto bene. Accettiamo l'offerta del nostro tipo perché... Sarà il nostro nuovo armaiolo. E lo chiameremo... E' un cacchio di ragno gigante. Che cacchio è sta roba? Un amantile. Non è un umano, va bene. Lo chiamiamo sempre... Kyle. Accetta? Vai. Vabbè. Kyle è diventato un ragno. Un cosotto zampe qua, come cazzo si chiama? Vabbè. Ci è trasformato, va bene. Allora. Next sector, ragazzi. E andiamo al settore civile questa volta. Nel frattempo io vi ricordo di lasciare un mi piace, di lasciare un commento qua sotto. Di mettere in condivisione il video sui social network. Ci vediamo, ragazzi, nel prossimo episodio di Fast and Delight. Da lei è un trip e tutto. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao.